Salve a tutti e a volte in un video, in questa video vi porto a Corizonti a Sdurbar e andiamo a cercare il video che ti saluta nel canale, il canale è lasciato un ragazzo, partiamo con il video, ragazzi, nel scorso video avevate visto che avevamo completato la Cina, quindi oggi ragazzi partiamo con il Giappone, quindi allora ragazzi, allora ragazzi adesso partiamo subitissimo, allora Giappone, a Tokyo, quindi ragazzi, soltate a Tokyo, 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 credo grazie, è il capitale del Giappone, allora Alba, quattro giri, cioè, di solito facciamo tre giri, questa volta ha detto di fare quattro giri, dai, che giornata, quattro giri, inoltre ragazzi, c'è più giri, ci dicono fare più ragazzi, mi sento male, Cioè, chi fa quattro, chi ha voglia di fare quattro giri, cioè, dai, sarò i ragazzi, i ragazzi è meglio che facciamo le gare un po', un po' meglio, Cioè, più, più facciamo meglio le gare, più, più, non so cosa dire, più, più saremo, cioè, più io e voi saremo felici, Bene, così, così, via, assolutamente, una cosa ragazzi è incredibile che non siamo, e va bene, siamo adesso sbattuti, aiuto, 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 Riusciremo a vincere, al quinto, al quinto, al quinto, se è possibile, se è possibile, anche al terzo, aiuto per un velo, Al terzo, al terzo, al terzo, dai, 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 bene, al secondo, bene, al primo, no, no, vecchio, al primo adesso, sì, Costa namastra La prima posizione, ragazzi, sapete, c'è, 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 quando, sapete, c'è, se, se è la prima volta, voi fate, tutto bene, la seconda volta, forse, farete un po' male, quindi riesco a paura che, nella, la seconda volta, faremo, la gara, un po' male, ma poi tanto, non lo so mai, ma dai vedremo come grazie sono felice che siamo quasi al finale di questo gioco ok ok adesso è cawaii che se è cawaii o cawaii non lo so ma 3g benissimo la partenza maledizione cosa mi bloccano la strada tua madre cosa mi bloccano la strada ecco dai almeno adesso è un po' meglio c'è quanto che posto è tutto rosa qui quasi tutto rosa qui superato a voi bene benissimo quasi ecco maledizione a questo no tra poco ragazzi dobbiamo prendere anche la benzina già detto già detto già detto io e sto ragazzi da questa parte perché è ancora un po' in avanti dai un po' di stress ma un po' di denti perché ecco già detto già detto già detto maledizione se si sbattiamo così la benzina la benzina la benzina la benzina bene uff per fortuna è riuscita a prendere ragazzi non so come andremo avanti nooo al sesto posto maledizione felice e squalificato maledizione c'è odioso questa roba io ecco vi ho già detto prima volta se facciamo tutto ok la seconda volta la seconda volta c'è che giornata intanto e sta da questa parte non c'è attenta attenta la benzina ecco e per fortuna riusciti a prendere la benzina c'è ragazzi se arriviamo almeno al quinto posto ragazzi è vinta la partita se almeno al quinto posto non al primo cioè non è che dobbiamo arrivare sempre al primo ma almeno al quinto posto se arriviamo abbiamo vinto la partita cioè possiamo andare nel prossimo livello dai per un pelo per un pelo sbattevamo ma non aiuta ma non è successo cioè siamo arrivati al secondo dai cosa cambia arriviamo anche nel primo ecco immaginavo io immaginavo che sbatteva cioè non è una cosa nuova o così cioè non è una cosa che voi non sapete è una cosa che lo sanno tutti cioè quasi quasi arriviamo quasi quasi e poi boom non più c'è ma il nuovo record bene c'è qualcosa che vedo quasi 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 poi non riuscite più ma adesso abbiamo città elettrica vediamo questa c cos'è questa città elettrica ma c'è lo vediamo adesso vediamo cosa intende con città elettrica ah si capite capite con città elettrica intende che qui c'è qui c'è tutto di elettrica c'è ragazzi c'è tutto è tutta elettrica maledizione no tu non vai avanti ragazzi quello che era dietro di me l'ho detto ecco questo che adesso è andato avanti l'ho detto di non andare avanti sapete che ragazzi possiamo cambiare anche il colore ragazzi questa cosa io scusate ragazzi ma questa cosa io l'ho scoperta tanto prima ma non ve l'ho detto ma sapete che noi possiamo cambiare anche i colori delle macchine io solo che ragazzi non lo cambia e solo è così ce lo voglio tenere come anche perché ragazzi non la cambia io o c'è maledizione eh 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 ecco bene eh 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 Così c'è la benzina che finisce e poi benissimo è squalificata Andiamo così avanti Ecco 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 c'è già detto Si tua madre c'è maledizione C'è 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 non si sa cos'è c'è Tua madre tua madre tua madre Ecco 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 Finalmente tua madre stai Stai lontano da me ragazzi quello che è dietro di me Ho detto lui ci sta quasi riesce Ci sta dietro di me Oh wow kills come sono riuscito L'obiettivo è che non dobbiamo esaltare Ecco bene Ma non c'è problema avanti abbiamo Un ricco di benzina Si Guarda Bene Adesso si sente meglio Adesso vedi adesso vi faccio vedere io Chi comanda qui Se riesco Ecco spostati Giro giro tondo Casca il mondo Casca la terra Ora mi sbattò Non lo so doveva Ecco Wow 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 Ecce Piano è piano Non facciamo Tutte in fretta Piano Tanto questo è l'ultimo giro Quindi c'è almeno Un po' C'è almeno questa volta Facciamo con calma le cose All'aria Wow 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 Oh Oh Al terzo posto Almeno il terzo posto Bene Uff riuscito riuscito ad arrivare almeno dove senza che riuscita almeno bene al lato sale chiotto è costoso arriva almeno al quinta posta nella gara precedente per sbloccare ma si è la stessa cosa con ragazzi qui dobbiamo arrivare al al quinto post tanto ragazzi guardate c'è che mappa e due giri dobbiamo fare fortuna nostra dobbiamo arrivare almeno al quinta posta per sbloccarlo capito direzze non dobbiamo arrivare quindi questo è il il giro girotondo come come dire labirinto al quinta posta dobbiamo arrivare il problema un grazie bello c'è facciamo solo una cosa solo una intende forse giri e forse gira in un modo non in in tutti i modi oh cosa usi il turbo c'è se usi il turbo non sa tu non sai quando ti userò io se basta te oh c'è non fare il figo qua qui come andrei io oh c'è già già l'ultimo giro e cos'è sto guarda ragazzi è un po' veloce sennò c'ero c'ero quasi spostati bene al quinto posto yahoo freni e frena frena qui direzze dobbiamo frenare molte volte se adesso c'era la possibilità di suonare il club signora suonavo c'è perché vai avanti velocemente maledizione dai per fortuna cosa siamo riusciti adesso forse ci sbloccherà se non è sbaglio giusto si credo se si tanto dovrebbe sbloccare già detto natura anche qui la stessa cosa arriva arriva al mio almeno il quinto posto per la cara precedente per sbloccare se la stessa cosa che devo fare 3 giri maledizione ma vabbè la natura quindi questa è una natura al quinto posto dobbiamo arrivare quindi oh maledizione ma vabbè se non aiuta per sbloccare due volte bene bene vecchie c'è voleva aiuto cosa sta succedendo se quel vecchio avete visto si è ribaltato bene c'è continua così vecchio continua così ragazzi dico alla macchina rossa che si è ribaltato se non avete visto continua così vecchio continua c'è c'è fai sempre il figo fai sempre il figo nuovo 이어 uoo но sa che la squadra rossa un salito o uuu modelling Stanc è tu poi non vado bene 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 c'è uncolo indumento incidente anche non non è solo supera nessuno vai avanti tutti Maledizione, maledizione, maledizione No, penso forse che adesso superava perché Sono già fermato Ecco perché dicevo, dicevo Dai, 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 dai Bene Vai avanti veloce Non abbiamo, tu stai, tu mi perdi il tempo Tu mi perdi il tempo Bene, fortuna nostra Ok Antoqualificata rosso bene quattro giri qui ragazzi dobbiamo possiamo andare possiamo arrivare non è che c'è una regola a cui tipo no no niente no pensa forse ragazzi c'è una regola c'è al primo se vogliamo o non lo so niente o niente ragazzi c'è dopo che ho detto non c'è niente quindi avete visto si è scivolato c'era tipo la bella quindi si è scivolato ecco bene ribaltati ribaltatevi tutti si quasi perché se lo stivano già in de notte faccio una confusione sì 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 poi se vuoi fate così c'è non vuoi iscrivetevi o non vuoi nuovi del canale ma questi qua questa auto una ridizione mi pensano di essere quattro giri dobbiamo fare che giornata l'ho notato adesso bene ribalta anch'io credo che non devo prendere in giro a di oggi perché tanto mi sono rivaltato via per un bello spazio 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 ho detto insomma chi ascolta chi c'è 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 che giornata a un sposto di bravo sposta temperava mi sono spostati importante che io sono riuscito per arrivare almeno al sesto posto che tanto servivo al sesto posto la posizione sesta c'è c'è che succederà e io sarei sporificato sii mancava mancava solo queste cose ecco mancava solo queste cose maledizione spostate bravo devo arrivare almeno al quinto ok almeno al quinto dai al quinto dai al quinto sono venuto torna a pensare verso al quarto ma no al quinto no ragazzi come c'erano due macchine lì pensa come poi l'ho superato pure l'ho superato se tanto abbiamo sei turbo che possiamo usarlo dopo quando se c'è l'emergenza perchè mi lagga adesso c'è maledizione quando devo quando non deve laggarmi mi lagga quando deve cioè non deve laggare mai dai almeno almeno siamo arrivati alla posizione fortuna nostra ok ok ora sì il bonus cosa è il nuovo nuovo bonus sbloccato sapore poi vedremo cos'è questo sapore intanto andiamo qui valle di ia ogni devo fare tre giri guardate la mappa c'è una confusione assolutamente cosa c'è qui se in solita cosa arriva almeno al quinta posta si quella cosa del quinta posta dai 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 uillalaa ullala mamma mia che che si ma spostati spostati maledizione allora ma cosa sei sordo cioè io ti sto di cerenza avete visto non so se l'ho detto spostati sordo o sordo e ecco bravo lambor no lambor non vale spostare perché lui pensa di essere figo in questa gara guarda ferrari te spostati perché devo superare anche lambor quindi capisci cosa cosa intende maledizione mi hai rotto mi avete rotto lambor 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 espostati lambor 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 ferrari spostati non è che qui sono venuta ecco bravo finalmente questi sordi sono cosa che macchina non lo so mai ma ben almeno ferrari e lambor si è spostati non Se ne è felice Di essere Al quinto posto Ma tanto ragazzi Dobbiamo arrivare al quinto posto Non possiamo superare Eccomi sono ricordata di essere ragazzi Mi chiamo Cioè no ragazzi Io volevo arrivare al primo posto ma 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 dai Uff Che faticoso C'è questo C'è quando la strada è stretta C'è che C'è quanta fatica Dobbiamo fare Ad arrivare al primo C'è Una C'è quanti problemi Dobbiamo Ecco isolato Ok isolato Tre giri Boom Facciamo questi tre giri Facciamo quel bonus E poi abbiamo finito Dai Valle di Ia Isolate Spostatevi Sono io Ma non topolino Ma Non avretevi presente sul topolino Non so Cioè quando avete Se non so chi è Perché vi sono topolino Vi credete Sono io topolino Ma questa volta non è topolino Ma sono io La B20 Quindi Quindi spostatevi Sì sì Dobbiamo essere Ferraro guardate No Non so cosa Sotto Non so Credo Ferraro Perché Ma Ecco No Non ci Non Oh Si C'è 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 Non so cosa C'è 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 Sì ma non so cosa C'è Ma lasciamo stare Questo qua C'è Non Guarda Che bravo Io non Non posso Io accettare Che Che tu Che tu Che tu Non 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 so C'è Che tu 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 Miss Perri Oh 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 Io Terraci Vi chure C'è Non Nostra Capendo Qua Zafari C'è Già Queste Strade C'è Questa Strada È Stretta Poi Se poi questi qua fanno così Possiamo Dov'arrivare almeno al quinto posto Maledizione Mi hanno rotto Mi hanno rotto bene al sesto Ma non mi interessa voglio arrivare al quinto Guarda, bravo Finalmente Noi adesso c'è questa storia C'è un po' stretta Adesso no Ma dopo sarà stretta Tra poco Sarà molto stretta Ha sido un maratonista Complicato C'era scritto sopra Se vi ho già detto prima Quando io ho legto Quando io dico completato Significa che Cioè dovete guardare sopra 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 destra L'ambor L'ambor Uccide No in realtà Non uccide Non uccide Non facciano stare Non uccide Vi ho detto Maledizione E cosa Non so nemmeno Lasciamo stare Lasciamo stare Dimentichiamoci Dimentichiamoci Per chi sta dicendo Adesso no Non dimentico Affari tuoi Se tu non dimentichi Hai concluso La La Giappone Dobbiamo fare Questa Maledizione Bonus Quindi Allora Poi dobbiamo scegliere Una potenza Per le auto Festival Della Neve Non C'è Ma In Giappone Cade anche La neve Non sapevo Non sapevo Cade Cade La neve Wow Così 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 Ma Lì Dicione Wow Kids Ma Lì Per Kè Oh Wow 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 C'è Infan Sba Dere Molte 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 C'è 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 Ecco Dai Questa Parte Bello Malizionello C'è Boom Avanti Gira 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 Wow 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 Calm 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 C'è Oh Ragazzi vi giuro non mi spostava l'auto anzi perché mi è andata sulla neve Ovviamente Ovviamente Non si sposta Mi hanno rotto C'è Malizia Sono felice che siamo siamo al finici siamo quasi al finale di questo gioco Siamo da Vici Grazie Murio C'è Non si può Non si può C'è Uno che uno sta guidando poi poi si sbatte molte volte Poi adesso guardate la neve C'è Guarda C'è Neve La neve C'è In modo che sta cadendo la neve La velocità di cadere la neve si è aumentata Quindi Guardata Adesso vi giuro non vedo nulla tranne Tranne queste frecce C'è Una Problema Se mi ha spostati Ecco Wow Wow Kids Non mi sono innescato Tutta 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 Adesso Ma Oh Pensi di essere Pensi di essere Bene Quinta Quinta Viga E la quinta posizione Si Terzo Viva Viva Terzo Quarto Posizione Al posto Viva Il terzo Posizione Viva il Quarto Posizione Si mancava solo Questa Bene Non aspettavo Altra Da voi Va bene Almeno Al quinto Post Siamo Arrivati Vi giuro Non vedevo Nulla Perché C'è La Nel Cadere La Neve Si è Aumentato Quindi Perché Non mi ha lasciato Scegliere La Potenza Finici Tra i primi Tre Per Ottenere Potenzialmente Per tutte Le Auta Devo Arrivare Al primo Post Per Forza Grazie Vi Concludo Con Il video Se vi Più Ci Lascio La Io vi Saluto Ci Nel prossimo Video Giappone Quindi 11 Poi 12 Dopo Giappone Ragazzi C'è Hawaii Quindi Ma Sedete Una Curiosa Terese Adesso 12 Dopo Hawaii Cosa C'è A Uno Quindi Reazzi Nel prossimo Video Grazie Faremo Hawaii Reazzi Questo E Sarebbe Il Finale Ciao E Sarebbe Reazzi Il Finale Di Di Questo Gioco Quindi Grazie Vi Salute Ci Nel prossimo Video Grazie Nel prossimo Grazie Completo Completeremo Tutto Il Gioco Quindi Vi Saluto Ciao Ciao